Ehi ragazzi e ben trovati in questo nuovo video, sono XT su Barbaracacacca E oggi siamo su Inflicted Airship Che pronuncia da schifo, vabbè comunque questo qua è un gioco simile Ancora no, a Staling the Diameter Escaping the Depression E non so che cos'è però praticamente dobbiamo infiltrarci dentro a questo coso qua Non so che cosa dobbiamo prendere Iniziamo subito con questo qua che sta con la faccia attaccato alla cassa Non voglio sapere cosa cazzo dicono questi E andiamo, usiamo questo qua, siamo stick hand Vediamo un po' che cos'è, vediamo un po' che cosa hanno inventato qua E vediamo, ah dobbiamo prendere questa cassaforte, ah ok E allora prendiamo, vabbè vai vai, eh vabbè si verrà, vaffanculo eh E allora usiamo, usiamo la bomba, vediamo Ah no questa non è la bomba, questa è la pietra Che ci ha fatto cadere giù e siamo morti Ah no siamo vivi, siamo vivi Ah no siamo vivi, ok Siamo vivi E già abbiamo vinto, perfetto Già abbiamo vinto Cioè Rendetemi conto che Che cazzo è Ah non abbiamo vinto, non abbiamo vinto Ah no mi sembrava strano eh E no mi sembrava strano Vabbè ha preso uno sacchiotto, vabbè e non si può fare quindi forse c'è meglio se Non si può fare quindi forse è meglio se torniamo, se torniamo indietro perché forse abbiamo sbagliato qualcosa Allora usiamo allora questo, vediamo se funziona Questi qua nel frattempo stanno leggendo Non so che cazzo stanno leggendo Stanno vedendo qualcosa E nel frattempo cosa E la peppa Una bolla così Come cazzo fa A sfondare il vetro in quel modo non si sa Vai Perfetto Un coglione contro un coglione Usiamo, usiamo, usiamo 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 questo Vediamo se funziona Ti triturerò Madonna Non ha senso Vabbè usiamo la Usiamo la sedia Vediamo se funziona Oddio Ma che cazzo è sta roba Eh vabbè Ma che trollata è Non ha senso Non ha senso Vabbè raga Ehm Vabbè Ehm Che cosa dobbiamo fare Qua dobbiamo Ehm Cosa Perché sta usando una cosa Vabbè Ehm Questi qua ci vogliono a tentare di farci il culo Ma noi possiamo reagire Usiamo No Non possiamo reagire Allora usiamo Usiamo Cosa usiamo Usiamo la sedia Vediamo se funziona La sedia No niente Ah no funziona Che cazzo di merda funziona La sedia funziona Ok Olè Che cazzo fa questo Questo qua quando corre sembra Cazzo vogliono chiudere le porte Vogliono chiudere le porte Ciamo questo Ciamo questo Veloce 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 Che cazzo Dove cazzo sono capitato Oddio Vaffanculo Olè No sono morto Vaffanculo Che cazzo Vaffanculo però eh Allora Questo qua quando corre Sembra Cioè che Si sta Cagando sotto Vabbè comunque Allora usiamo questo Vediamo se la merda Vediamo se i fagioli funzionano Grandissimo La scorreggia ci Ci porta In galera Ci ha portato in galera Perfetto Adesso No dove cazzo vuoi scappare Strunzo Dove cazzo vuoi scappare Adesso ti raggiungo Usando Dei mega piedi Alla matrix Si Vai 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 Non devi andare Fino sopra Eh vabbè però Allora Usiamo questo Allora Vediamo se funziona Che cazzo Madonna mia Raga Ma che cacchio È sta roba Non ha senso Eh vabbè Eh Allora usiamo Usiamo questo Vediamo se funziona Almeno Dai Ovviamente Ah no Sono vivo Come cazzo Corri 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 Che cazzo Si Siamo nel quest Ancora una volta Siamo nel quest E siamo la spada Combatti da uomo Cos'è Perché siamo capitati In un video gioco Vabbè Combattimento Vai Combattimento Ehm Cos'è Perché mi hanno lanciato No 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 Eh vaffanque Vabbè Ma Come cacchio Dove fare Scusate Allora Usiamo la spada Eh Usiamo Vediamo Come devo Aspettiamo Come la devo sconfiggere Magia Vai Magia Magia Cos'è Fuoco Eh vabbè Sì Ma come No Eh vaffanculo Vero stronzo di merda Ebbè Allora Come devo fare Scusate Allora Forse devo usare Questo Aspettate Dove usare questo Vediamo se funziona Sì L'ho tagliato In 55 Parti Ma forse anche Di più Però Non capisco L'ho tagliato In 50 parti Al posto di Cadere a pezzi Scompare Non ho capito Vabbè Comunque l'importante È che abbiamo vinto Questo gioco Non ha senso Però Sono felice Ok Ehm Adesso Perfetto Adesso dobbiamo fare Salto lungo Che cosa usiamo Non uso questo Perché sicuramente Usiamo le scalpe A razzo Vai Giustamente Giustamente Vabbè Allora Dovevamo Allora Dovevamo usare questo Giustamente Giusto Ovviamente Oh non c'è Mai una volta Non c'è Mai una volta Quando Ci azzecco Con le Con le scelte Vabbè Vai questo Prendilo Vai Stronzo di merda Devi Devi crepare Atrocemente Capito Fermi Fermi Oppure Lo butto giù Avete capito Non mi interessa Ciò che dice Ciò che vuoi Stronzo Tu devi andare in galera Capito Devi andare in galera Ti farò pentire Di avermi mandato in galera Nello scorso episodio Di escape Escaping The prison Hai capito Stronzo Ok Abbiamo preso il colpevole Adesso Che cosa dobbiamo usare Possiamo Il Ma voi non ho capito Come fa ad evadere Con il carro armato Scusate Vorrei capire Ah Ecco 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 Ehm Vabbè Però siamo Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Grandissimo Ehm Vabbè Questo documento Vabbè Cetera Eccetera Non mi interessa Non mi interessa Questo Faccio finta Che questo qua E' la multa Per aver parcheggiato Il carro armato Nel deserto E abbiamo vinto Benissimo Abbiamo vinto Ehm Perfetto Ehm Aspetta un attimo Volevo vedere Volevo vedere se c'era Se c'era Cioè Volevo vedere se c'era Un altro modo Per Ehm Per Vediamo se c'è un altro modo Per Per uscire da questo posto di merda Allora Vediamo un poco Vediamo Usiamo Usiamo la bomba Va Vediamo che cosa succede Ma sono sicuro che esplode Che esplode lui Eh Giustamente Ovviamente Non sa dove scappare Giustamente Vabbè E allora usiamo Questo Vediamo se funziona Funziona? No Giustamente esplode Benissimo Allora usiamo Questo Perché sta aspettando Che cosa è successo? Ah no Dobbiamo entrare Come ha fatto quella Non accorgersi Non si sa Vabbè Ehm Adesso che dobbiamo fare? Cos'è? Ah dobbiamo scegliere Ehm Vabbè Allora entriamo nella tubatura Anche se penso che Ehm La risposta è errata Comunque Vabbè Uh Dobbiamo prendere il diamante Il diamante Il diamante Il diamante è il nostro Il diamante è il nostro Il diamante è il nostro Ok Ehm Adesso come cacchia Facciamo Usiamo 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 questo Vediamo se funziona Va Che botta Siamo morti Ah no Siamo vivi Ha dato una botta Però siamo vivi Benissimo Adesso Benissimo Adesso come facciamo? Ah no Siamo entrati Siamo entrati Senza alcun problema Adesso come Come dovrei fare? Usiamo Usiamo questo Vediamo se funziona Vai Che cazzo Redi Stronzo di merda Vaffanculo Va Vatta a fare le pippe Con questo che sta dormendo Usiamo questo Vediamo se funziona Perfetto Si trasforma In un disegno Di carta Benissimo E si infiltra Nella fessura Della porta Benissimo La più grande Trollata Di tutti i tempi Vabbè comunque L'importante è che Abbiamo Ora siamo vicino Al diamante Ora come facciamo A prenderlo Ehm Usiamo 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 questo Vai Vediamo se funziona Prendilo Vai Ma perché se la prende con lui Non ha senso Vabbè Ehm Vediamo un po' Quale sia Questo Ok Vediamo se funziona E la peppa Funziona Non so come Ma funziona Perfetto Ci hanno visto Vaffanculo E che bei quadri Ciccio Bellissimo Quella puoi diventare La star di Hollywood Te lo posso assicurare Vabbè Ehm Adesso che cosa facciamo Cosa facciamo Cosa facciamo Cosa facciamo Cosa facciamo Cosa Ah perfetto Arrivano gli elicotteri Ciccio Non sforzarti Che ti caghi addosso Con quella pipa Metti te la nel culo Ok Dove siamo finiti Siamo finiti sull'elica Benissimo raga Benissimo Siamo a cavallo Siamo a cavallo Ehm Vabbè Siamo fottuti Quando si capisce che siamo fottuti È veramente tragica la cosa Vabbè Usiamo questo Vediamo se funziona Non so neanche che cazzo Che cazzo Oddio santo Cos'è Il Oddio Non so Ma che cazzo Ragà Indetevi conto Che questo qua Il gioco più in uno senso Che c'è Si è mai esistito Perché c'è praticamente È una cosa incredibile Cioè Pensate che Siamo riusciti A Far Mettere Cioè Siamo riusciti a mettere in tilt La Il grande Perfetto Sta succedendo La fine del mondo Cioè Non si sa Vabbè Comunque Quest'altro qua Ha perso qualcosa Non si sa cosa Non lo voglio sapere Neanche E Vabbè Cosa dobbiamo Che cazzo Sta cercando Ha perso veramente qualcosa Che dobbiamo fa E Dobbiamo scegliere Ah Dobbiamo vederci un film Allora Vediamoci Prototype Vediamo che film è Vediamo che film è E Un film d'azione Bellissimo Bellissimo E Perfetto E Mamma mia Che bel film Vabbè Veramente un bel film Veramente un bel film Guardate C'è un film C'è un film d'azione Piene di Di Suspense Perché sta pisciando Quello Non si sa Vabbè Comunque E Cos'è Missione compiuta Vole Ci abbiamo fatta Ci abbiamo fatta Perché si stanno guardando così Hanno qualche dubbio Sì Stronzo L'ho L'ho fatta precipitare io Eh Te ne vai Eh Tieni paura Stronzo Tieni paura E' meglio che ti tremi di paura Vabbè raga Abbiamo vinto anche Abbiamo finito anche questo gioco Dio Infiltro Nel leadership Vabbè Vaffanculo Vabbè raga Concludo qui questo bellissimo video Noi ci vediamo alla prossima Qui da XD Su Barbar Hkk Commentate Iscrivetevi E tanti likes Ciao